bella a tutti ragazzi e ragazze e benvenuti in questo nuovo tutorial bene oggi vi mostrerò come disattivare la venuta lettura cioè le spunte blu diciamo su whatsapp allora entriamo su whatsapp e vi faccio vedere come avviene il tweak diciamo allora come vedete già questo il fatto del colore strano eccetera eccetera è il tweak il tweak in questione si chiama whatsapp plus e ha le proprie setting nelle impostazioni diciamo allora prima cosa che si vede è stealth mode cos'è la stealth mode? la stealth mode è quello che vi permette di diciamo di restare invisibili e la si deve attivare qua c'è scritto attivando la stealth mode tu risulterai non visibile dalla tua attività diciamo da quando sei stato online su whatsapp e ok disable read receipts e questa è per disattivare le spunte blu disable delivery receipts che cioè quando le doppie spunte quelle lì grigi normale e disable typing receipts che è quando scrivete che c'è scritto sta scrivendo diciamo poi c'è di settare una password se volete poi di vedere la foto di profilo intera di mandare media unlimited cioè cose illimitate schiacciare per record senza fare altri tap diciamo colore del testo personalizzato il custom theme cioè il colore di questa cosa personalizzato e dovete scegliervi i colori diciamo io ho scelto questo verde scuro e secondario nero che sarebbe queste qui whatsapp settings ebbene basta questo è il tweak e ora vi farò vedere in cosa ora dovrò coprire queste cose i messaggi che mando ma comunque allora questo il tweak che vi ho appena fatto vedere c'era un tap per per recorder e funziona così io tappo tappo e non devo più tenere schiacciato devo semplicemente devo semplicemente fare così e quando finisco diciamo schiaccio di nuovo ora scorro per annullare perché non serve bene per avere questo tweak dovete andare su sidia sidia si ottiene ovviamente con il jailbreak e questa qui è un tweak che vi farò vedere in un secondo momento in un altro video ed ecco qui whatsapp in che repo è? è nella repo di big boss che tutti tutti hanno perché è preimpostata in sidia ma comunque la repo è apt.thebigboss.org repo file sidia ve lo metterò in descrizione cosa dovete fare? andare in cerca e scrivere whatsapp plus qui nella barra di ricerca ed eccolo qui whatsapp plus da sidia quick aspettiamo il caricamento eccolo qui qua ci sarà scritto installa voi dovete scrivere io metterò così e siccome c'è un aggiornamento qua in novità c'è un aggiornamento io farò aggiorno bene aggiorniamo reinstalliamo voi installate insieme insieme Bene, ora il tweak è stato installato Non c'è diciamo nelle impostazioni una spunta per il tweak Mi sembra di no, vedete non c'è nessuno Fa questo rumorino che si è attivato but saver, alto tweak Comunque, semplicemente dovete andare su whatsapp Su impostazioni e impostarvi il vostro tweak Volevo anche il tutorial di questo tweak è finito Volevo chiedervi se volete in un prossimo video farvi vedere com'è questo tweak Che sono delle cartelle speciali che si possono creare Bene ragazzi, per questo tweak, per questo tutorial è tutto E ci vediamo al prossimo video Ciao ciao Ciao